Oh Gabri, ma che cos'è possibile? Lo sto sentendo pure io, cos'è? No, ok, ok, aspetta un attimo che sta continuando, se no non ci si capisce... Ok, perfetto, è finito, è finito. Allora, se parlavi là non ci si capiva niente, allora praticamente... Il mio personaggio, prima di entrare in questo mondo e anche prima che tu entrassi, Gabri, si stava muovendo da solo e... Ma come? Di nuovo? So, di nuovo, di nuovo. E ogni volta che il mio personaggio si muove da solo io attivo la registrazione e poi decido se caricare il video o se non caricarlo. Se non avete visto... Cioè, allora, di solito succedono cose quando io carico il video. Però, se inizia la... Allora, se praticamente io inizio la registrazione e non succede niente, allora praticamente è inutile che carichi il video, perché chiaramente... Eh sì, infatti, c'è. Eh, ovviamente non serve a niente. Quindi, adesso, oggi andremo ad esplorare quello che succede. E io ho sinceramente un po' di paura, perché ci sono anche stati dei cartelli che dopo vedremo, ragazzi, perché dicevano delle cose che poi mi sa che voi conoscete anche, perché l'avete già visto. Non lo so, Gabri, iniziamo già ad andare un po' da questa parte. Va bene, andiamo. Ad esplorare un attimo qua in giro per vedere che cosa si potrebbe trovare qua in giro, senza però rischiare troppo, perché nel senso qua, io ti ricordo che ci dovrebbe essere un'entità in questo mondo. Eh sì. E io mi ricordo anche che tu sai bene, tu, tu, tu sei bene a contatto con questa entità. Eh, io lo so. Ah sì, che ho fatto anche il mio portale. Eh, esatto. Comunque, sai cosa? Meglio toglierti l'armatura, Gabri, perché... Va bene, va bene. Ok, perfetto. Se no, non è giusto che tu hai l'armatura e io non ce l'ho. Eh sì. Piuttosto, cosa ridi? Cioè, scusa, ti sembra una cosa da... No, 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 no. Non devo morire, non voglio morire. Allora, Gabri, concentrati. Siamo... Va bene, va bene. Sì, è una situazione dove il mio personaggio si muove da solo, dove il tuo personaggio potrebbe muoversi da solo. E se succede una cosa, poi dopo va a finire male, Gabri, lo sai, vero? Sì, 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 lo so, lo so. Ok, perfetto. Allora, adesso dobbiamo andare ad indagare, ad esplorare tutto quanto. Vabbè, ho preso un bel fungo. Chissà che cosa c'è. Questo era un test per vedere se ridevi ancora. No, 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 no. No, raga, io, allora, con questo qua, quando si deve... Quando si deve fare discorsi seri non si possono fare. Non volevo, non volevo. Non volevi, non volevi. Allora, sai che ti faccio adesso? Vabbè, basta, perché se no. Comunque, ragazzi, è molto importante stare attenti adesso perché potrebbe succedere una cosa veramente terribile. Cioè, io non so cosa potrebbe succedere. Ah, e poi, Gabri, non so se tu ti ricordi di quel cartello... Oh, madonna mia. Quello dal portale. Esatto, adesso andiamo a vedere perché è importante andare a vedere. Mannaggia, che è perfetto. Vieni, forza! Sì, sì, arrivo, arrivo Mi raccomando, non perderti, eh, per carità No, cosa, madonna mia, no Sono caduto, sono caduto No, come? Sono un po' stupido Sono morto anche No Forse non dovevo morire Sto arrivando, Gabri, sono dal portale Praticamente, che cosa dovrebbe succedere qua? Vedi, mi vedi, eccoti qua Non ti vedo, eccoti Come al solito, non mi vedi, caro Gabri, ma non fai niente No, non ti vedevo Allora, vieni con me Praticamente, questo, eh, coso, diceva La fine è vicina Poi, praticamente, io ho paura, Gabri Perché dovrebbe essere Dici che potrebbe centrare? Sì, ovviamente abbiamo il backup, non succede niente Ah, meno male, perché io non vorrei abbandonare questo mondo, cioè Scusa, tu stai diremmo parlando basso? Ma come? Oddio, cosa sta succedendo? Perché sta laggando tutto, Gabri? Gabri, perché sta Cosa sta succedendo? Oddio C'è una palla di TNT Come c'è una palla? No, 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 aspetta un attimo Fermo, 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 fermo Oh, mio Dio, mio Dio No, 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 che cos'è sta roba? Gabri, ma No, cos'è? Eh, mi sa che la fine è vicina Era davvero vicina Eh, mi sa Oddio Oh, porca miseria No, Gabri È arrivata la TNT pure qui Eh, mi sa che dobbiamo scapparcene No, eh, oddio, sì Mi sa che dobbiamo scappare Eh, aspetta, no, ma no Sembra essere finita, però Eh, mi sa Ok, è finita, è finita Oddio, no, non è finita No, scherzavo, per carità, scherzavo Non è finita affatto Non è finita, non è finita affatto Io devo togliere Allora, facciamo così Eh, se no Magari poi lagga anche di più Ok, perfetto, ragazzi Ho tolto No, 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 no È impossibile Cioè, la fine è davvero vicina Cioè, loro intendevano davvero Questa entità schifosa Sì Che ci vuole distruggere il mondo E che continua a perseguirci Dappertutto Ma che cosa vuole da noi? Ma appunto Cioè, noi non gli abbiamo mai fatto niente Oddio Ho visto un fulmine Eh, eh, eh Mi sa Mi sa che il fulmine C'entra di nuovo con l'entità Mannaccio Senti Io non so nemmeno se avvicinarmi Perché io ho paura, sinceramente Forse adesso è finita Proviamo Spero vivamente che sia finita Perché se non è finita Qua crasha il mondo Eh E se crasha il mondo Poi dopo non è che succeda un grand Eh, no, infatti Eh, perché Allora, vediamo un attimo Perché io sono curioso di capire Cosa Cosa è successo qua Dovemmo Oddio No, no, no Ancora, ce n'è ancora No, 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 no Capiamo, scappiamo No, 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 ma se siamo fuori di testa Cioè, guardate qua, ragazzi Cioè, ci ha distrutto il mondo Sì, infatti Cioè, il nostro mondo, Vanilla, è stato distrutto completamente da questa entità Ma non è possibile Cioè, dai, ma perché? Ma cosa vuole? Oddio, ce n'è ancora qua No, 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 no Sta continuando Scappiamo, scappiamo Cioè, vedi, Gabri, vedi Sta continuando Cioè, veramente una cosa terribile Cioè, perché? Cos'è? Ma noi abbiamo mai fatto niente Allora Io penso che Ma io non Allora, ragazzi Poi io Non lo so Non so nemmeno se è un'entità Se è Un altro fulmine Di nuovo Allora, io non so nemmeno se è un'entità Se è un qualcosa di Magari un hacker che continua a romperci le scatole Non sappiamo niente di tutto Cioè, cioè Non, veramente Non sappiamo niente Non sappiamo perché Non Non sappiamo, boh Cioè Sì, non sappiamo neanche perché è qui Cioè Noi non gli abbiamo mai fatto niente Eh, esatto Cioè, boh Poi questa casa continua a rimanere Questa è l'unica casa che continua a rimanere Viva Cioè, non è possibile È vero Cioè Non è possibile Questa cosa Vabbè Boh Cioè Magari l'entità Potrebbe anche distruggere queste altre Perché non è possibile Vabbè comunque Comunque questi hacker Gabri Io sono Hacker, entità Cosa siano Eh sì Infatti non sappiamo Vabbè Cioè non sappiamo come chiamarli Dobbiamo trovare un modo per chiamarli Esatto Vabbè Qualsiasi cosa siano Comunque sono proprio dei gran B Eh sì Per dire qualcos'altro Perché non è possibile Ci vogliono distruggere Cioè se non avessimo avuto Il backup del server Cioè Sì saremmo rovinati Non avremmo più il mondo Eh esatto Beh oddio Rovinati è un parola Vabbè Però insomma Sì sarebbe Terribile Vabbè Allora Ragazzi Cioè Io non ho proprio parole Per descrivere ciò che è appena successo Fateci sapere voi Nei commenti Che cosa pensate di questa cosa Perché Noi davvero Non sappiamo Cioè tu Gabri Chi pensi che sia Io non lo so O è quell'entità Ma sicuro Quell'entità Però non so se è una persona Oppure un'entità Eh esatto Sempre questo dubbio Cioè Cioè è proprio questo Perché se è un'entità Si comporta anche male Ecco Poi ha fatto un fulmine Proprio là sopra Sopra il tentacolo Proprio Sì è vero Sempre lì Se tu ti ricordi All'inizio di questa vanilla È iniziato proprio così Praticamente Con i tentacoli Sono usciti questi tentacoli dal cielo E ci davano dei indizi Adesso è arrivata la fine Come ha detto E quindi Oddio un'altra palla di TNT No stai scherzando Stai scherzando No no è qui La vedo Qua è la fine La vedo anch'io La vedo anch'io La vedo No no Gabri Eh no 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 Mi sa che è finita No E proprio il mondo è finito Gabri girati Prima che non Prima che esploda tutto quanto Cioè nel senso Prima che il mondo esploda Cioè io Allora Ho paura di questa cosa Eh mamma mia Porca miseria ragazzi Porca di quella miseria Ma cosa mi stiamo Cosa mi state dicendo Cosa sta succedendo ragazzi Ma sì infatti Boh Ma Gabri sta continuando No 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 Per ora ha smesso Per ora Sembra che ha smesso Ok perfetto No però mi sa che Si continua Eh mi sa perché era enorme questa palla Non lo so Vediamo eh Vediamo perché Non ne sono proprio sicuro Forse ha finito Ha smesso Eh mi sa perché c'era un altro fulmine Ok perfetto C'è pure il tentacolo distrutto Va bene Ok ho capito Allora Ragazzi È stato molto inquietante Fateci sapere voi nei commenti Cosa ne pensate È stato pieno di TNT Di esplosioni Di cose Noi siamo molto preoccupati Eh ora tocca a voi Iscrivetevi Si troppo Lasciate like E commentate Per sapere Farci sapere cosa ne pensate E le vostre teorie a riguardo Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao